Si tinde i titolari di imprese dell'appalto di ArcelorMittal davanti alla sede della prefettura di Taranto, che hanno protestato per la situazione di grande incertezza e di ritardo nei pagamenti delle fatture per i servizi resi. A questo si associa la preoccupazione dei lavoratori del siderurgico per le ultime dichiarazioni di ArcelorMittal Italia, inerenti la produzione e gli impianti. La multinazionale, secondo gli imprenditori, avrebbe paventato anche il blocco dei cantieri dell'AIA. La delegazione di associati a Confindustria Taranto ha incontrato il prefetto Demetrio Martino per sollecitare un incontro urgente con il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Lui ha preso l'impegno di provare a vedere se riesce a prendere l'appuntamento, perché noi vogliamo parlare col governo, perché siamo i primi a voler fare l'acciaio green, vogliamo il bene di questa città, rappresentiamo 5.000 dipendenti dell'indotto e vogliamo che questa fabbrica dia l'acciaio pulito, perché ormai si parla di green. Attivarsi già da stamattina per acquisire una disponibilità da parte del ministro Giorgetti ad un incontro con Confindustria Taranto, con l'industria di Taranto. Questo è l'impegno preso dal prefetto.